Domenica 6 novembre i cittadini di Monfalcone saranno chiamati ad esprimersi su chi essi vorranno alla guida della città per i prossimi 5 anni. Silvia Letrani impegnata in una difficile rimonta e a una difficile riconferma per il secondo mandato. Anna Cisinte, la sfidante del centro-destra, impegnata a consolidare il suo successo del primo turno e cercare di consolidarsi. Ma è come questa volta importante andare a votare perché il sindaco è la persona più vicina ai cittadini. Un confronto, quello che andremo a proporvi nella giornata di giovedì 3 novembre alle 19, alle 20 e 30, alle 23 e 30, dove in 60 minuti cercheremo di capire come hanno intenzione di attuare le promesse fatte in campagna elettorale. Molto spesso i programmi sono una cosa e poi dopo quello che si può realizzare è un'altra. Potete inviarci anche voi le vostre mail con le domande da sottoporre alle due candidate sindaco a monfalconechiocciolatelantenna.it entro il 2 novembre alle ore 15. Vi aspettiamo per capire se entrambe le candidate accetteranno il confronto davanti alle nostre telecamere. Grazie a tutti!